Piovano complimenti per il campione Vicentino che ieri ha trionfato nei 100 metri d'orso ai mondiali di nuoto a Budapest. Oro che segna il record del mondo nella specialità e che non è solo italiano ma Vicentino. Il 21enne scatena un moto di orgoglio che parte dal territorio e non solo dalla sua città natale Schio, ma dalla città che lo ha adottato sportivamente parlando, Creazzo, piscina dove il campione si è formato atleticamente. Tutta la comunità di Creazzo ieri sentendo la bella notizia dice con esultata di gioia. Io come sindaco a nome di tutta l'amministrazione non posso dire altro che siamo veramente lieti e onorati di avere un grande campione che ha dato sempre il meglio di se stesso allenandosi nella nostra piscina di Creazzo. Qui lo vedete al ritorno da Tokyo la scorsa estate dove aveva guadagnato due medaglie olimpiche e dove agli impianti natatori della Leo Sport era stato accolto con l'entusiasmo del caso e dove l'invito di giovani atleti e tifosi è ovviamente rinnovato per festeggiare la nuova impresa.